Ciao e ben ritornati nelle 24 ore challenge Adesso siamo nel pomeriggio Abbiamo mangiato E adesso siamo seduti Abbiamo un po' giocato il telefono E momentaneamente Mio padre verrà E ci porterà Globo Da Globo noi andremo a prendere le LOL Surprise Boys Faremo l'unboxing E poi di sera ritorneremo Dopocena Oppure prima Io andrò a dormire Da mia cugina Cioè che noi siamo in una casa sola Perché adesso lei è venuta a me Si è trasferita fino a domenica E quindi dormirò da lei E invece Sua sorella dormirà da mia nonna Che poi ci dormo io Però ci avrei pure un'altra casa Che sarebbe questa Lo vorremmo anche vedere Globo Tranne le persone Perché le persone non vogliono essere intervistate Quindi vi faremo solo vedere i piedi Ok Allora In tutto questo Lasciate like Iscrivetevi a questo fantastico canale Team Tommy DJ Sto vedendo già che vi siete iscritti di più Ah Quindi vedete questo video All'azione della campanella Ora Ora Facciamo vedere che ore sono Che ore sono Le 13 e 32 Ehm Eh Che ore sono Grazie.